Ciao e ti do il benvenuto all'analisi C con l'indicatore Volta per quanto riguarda Ethereum. Ho appena aperto il grafico che non analizziamo credo più o meno da marzo, appunto lì, aprile forse, non so, non marzo. Volevo quasi spegnere perché è inutile, cosa si fa? Una porcheria inguardabile. Metto due date, cerchiamo di vedere se si può fare qualcosa, questa la sposta un pelino più a destra, questa la previsione era di due giorni prima rispetto a quello che è venuto a creare, questo in realtà è giusto perché è di dieci giorni, ok? Quindi vediamo che era corretto, magari allarghiamo un po', ok? Facciamo così, andiamo a mettere qua uno nei venti giorni, qui un altro venti giorni, qui un altro venti giorni, qui un altro venti giorni, ed ecco che l'analisi ciclica con il mio indicatore Volta si va presto a farla. Quindi abbiamo già sostanzialmente tutto quanto preparato fino a giugno, volendo potremmo anche andare fino a luglio, chiaramente man mano che verranno confermati i minimi, ripeto, tutti in automatico, e avremo anche poi l'aggiustamento della sinusoide nel futuro, non nel passato, nel futuro non nel passato. Quindi vuol dire che va a calcolare la media e quindi proietta nel futuro il mercato. La media durata la vedi qua, il ciclo da venti giorni, che è una durata base di 20, dura 17, quello da 40 giorni dura 34, quello da 80 giorni 66, il 20 settimane, che dovrebbe durare 140 giorni, ne dura 119, il 40 settimane, anziché 280 di base, ne dura 2,21 e il 18 mesi, anziché 560 giorni, ne dura 4,97. In questo caso Ethereum ha la durata media di tutti i cicli che è inferiore alla durata media standard, c'è la durata standard, a volte capita che invece la media sia superiore, dipende da strumento a strumento. Andiamo a vedere quando partiva l'analisi che non ho la più palle d'idea, andiamo su Home, l'analisi è partita il 6 dicembre 2016, il prezzo c'è ovviamente qua, quindi stiamo parlando di 7 anni, 7 anni tondi praticamente, no, 6, poco meno di 7 anni di analisi su Ethereum. Come puoi vedere fare l'analisi ciclica è molto veloce con il mio algoritmo, cosa che non puoi pensare di poter fare con un'analisi ciclica manuale, che anche onestamente parlando, stiamo parlando di 50 anni fa. Per quale motivo bisogna ancora raccontare le candene? Perché semplicemente non si ha probabilmente la capacità di creare un algoritmo. Io ci sono riuscito dopo 10 anni, grazie a un programmatore, ovviamente non l'ho fatto sicuramente io, perché secondo me anche l'analisi ciclica è automatizzabile, ed è anche uno dei motivi per cui non si vedono strumenti come il mio, che non sono un ciclo fisso a cui si centra il mercato dentro, ma sono i cicli che come giusto sia si vanno ad adattare al mercato. In questo modo è difficile creare un algoritmo che li vada a selezionare, ripeto ci sono riuscito e lo puoi vedere qua, lo puoi vedere in realtà da mesi, tutti i sacrosanti giorni, come le analisi multi day che faccio sono nella maggior parte delle volte, la stragrande maggioranza delle volte porta a profitto. Anzi, da questa sera, non so se posso metterlo sul sito, però magari mandatemi un messaggio, no, per domani vedrò di fare un sondaggio qui, no, non aprirò nessun servizio nuovo, va bene così. Allora, volevo aprire un servizio multi day, ma lasciamo stare, mantengo il mio servizio internet day sugli indici e lì mi fermo. Tra poco farò un bel video su una, non ve lo dico. Allora, Ethereum, Ethereum a differenza di Bitcoin che è in una fase di fondo rialzista, Ethereum è in una fase di fondo ribassista. In che maniera si può vedere questo? Lo si può vedere se non hai l'occhio abituato in maniera molto semplice, andando a togliere i cicli più piccoli. Spiego una cosa se magari c'è qualcuno che sta guardando il video e la prima volta che sente parlare di analisi ciclica. Noi abbiamo il mercato che fa così, no? Ci viene insegnato che sali sul trend che è il tuo amico, poi il mercato lo vediamo e da tre mesi che è in laterale, sali sul trend che è il tuo amico, perdi e basta. È normale che sia così. Questo è il trend. Poi i manuali, quelli del seno del poi, fanno vedere questo che sono i movimenti del mercato, no? la struttura del mercato, come dicono, in maniera, come si dice, iperfiga sostanzialmente. Quindi abbiamo poi cose del genere. Più o meno. Come si fa a capire quando questo avverrà? Che poi è quello che noi dobbiamo fare. Le poche volte che avviene, perché i mercati di oggi sono così. E sono così. Non ci si può salire sopra. Girano immediatamente e si rimangono giornate intere in due ore. Vedi ieri, vedi le volte scorse. Però noi dobbiamo cercare in tutti i modi di capire quando questo parte, quando questo arriva su un massimo, quando questo arriva su un minimo, bla bla bla, stessa cosa da questa parte qua. Come si può fare? E soprattutto la domanda è si può fare? Assolutamente sì. Con l'analisi ciclica. L'analisi ciclica, se andiamo ad analizzare, che caspita, se andiamo ad analizzare i cicli più grandi, cicli più grandi ci definiscono il trend di fondo, i cicli più piccoli ci definiscono gli swing all'interno di quel trend. Quindi noi in questo caso andiamo a togliere i cicli piccoli, quindi togliamo lo swing, gli swing. Togliamo il 20, togliamo il 40. inizia già il grafico, la sinusoide ad assumere una direzione un po' più leggibile, che è questa qua ribassista. Abbiamo ancora una fase di rialzo leggera e poi una fase di ribasso più importante, perché è così ampia? Perché qui abbiamo l'80 giorni, il 20 settimane, lo vediamo, il 40 settimane, vediamo un po' il 18, e il 18 mesi che sono tutti nella fase ribassista, quindi sono nella seconda parte della sinusoide di un ciclo. Ricordo che un ciclo è fatto in questa maniera qua. Un ciclo non è fatto così, ma il ciclo è fatto così. Perché? Perché un minimo non può essere così, un minimo può essere così e un massimo può essere solo così. Da un punto di vista paroteorico, poi ci sono chiaramente i minimi di prezzi, i massimi di prezzi secchi, e vedi questo, è indubbio che sia così, però qua la sinusoide va sempre così. Andando a rimettere i nostri cicli, 20 settimane, 80 giorni, 40 giorni, ecco che si vengono a formare gli swing. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questa fase di ribasso noi ci aspettiamo uno swing intorno al 6 di giugno, un altro swing intorno al 24 di giugno e un altro swing che sarà più o meno intorno al 10 di luglio. Ho così tante date, ho su Ethereum, quindi le avevo messe, chissà quanto tempo fa le ho messe, ma è una vita che non faccio un'analisi. Quindi cosa dobbiamo fare? Siamo vicino a quello che è un picco importante, quello del 21 giugno. Andiamo a togliere anche qua, abbiamo quindi il 20 giorni, che è quello che vediamo adesso. Togliamo il 20, abbiamo il 40, ok, che è previsto più o meno lì, intorno al 26 di maggio, ho detto giugno, invece era maggio, e il 40 giorni che invece è previsto per il 6 di giugno. Cosa vuol dire? Vuol dire che più o meno tra la fine del mese di giugno, i primi giorni di maggio, i primi giorni di giugno, possiamo andare a cercare, sapere che abbiamo una componente ciclica che inizia a ribassare. A ribassare lo si dice, inizia la fase di ribasso. Perché mettendo il 40 al 20 giorni, in realtà il minimo si sposta a sinistra, potrebbe anche, cioè il minimo si è spostato a sinistra, ma poteva anche spostarsi a destra, perché semplicemente l'algoritmo va a sommare i cicli e quindi ci va a restituire quelli che sono i valori, dal punto di vista temporali, della loro sommatoria. Ed ecco che viene fuori questo. Quindi noi, in minimo, ma ci potremmo aspettare in questo caso un mercato che andrà a compiere il movimento del genere. Più ovviamente la sinusoide è ampia, quindi come in questo caso, vuol dire che più abbiamo cicli che sono in sincronia uno come l'altro, come ho fatto vedere qua, avevamo il ciclo da 80 giorni, 20 settimane, 40 settimane, 18 mesi, tutto a ribasso. Qui vuol dire che abbiamo almeno un paio di cicli, sono il 20 giorni, il 40 giorni, se vede chiaro, che sono in una fase rialzista e quindi ci potremmo aspettare magari un ritracciamento un po' più importante oppure una continua lateralità. Però sappiamo che di fondo siamo a ribasso. Quindi che cosa dobbiamo fare? Vediamo se abbiamo una trendline da tracciare. Io direi di sì. Andiamo a togliere questo. Non mi lascio toglierlo. E andiamo a tracciare una trendline nuova. Di che trendline si tratta? Lo vedremo tra brevissimo. Prima una brevissima mia presentazione. Sono Paolo Pisino, mi trovi sul sito tradingpertutti.com se è la prima volta che guardi una mia analisi ti do il benvenuto sul mio canale YouTube. Mi puoi trovare appunto sul mio sito tradingpertutti.com che l'ho già detto e ti chiedo scusa. Faccio trading da 5, da 15 anni gli ultimi 10 li ho dedicati allo studio dell'analisi ciclica. Questo mi ha portato a creare un corso di analisi ciclica che ho abbinato al corso di analisi volumetrica per far sì che tutti possano utilizzare il mio metodo. Il mio metodo è 90% analisi ciclica 10% analisi volumetrica. Si può lavorare solo con l'analisi ciclica? Sì. Si può lavorare solo con l'analisi volumetrica? Sicuramente c'è che ci riesce ma siamo sempre un po' a scommettere su qualcosa che sarà per succedere. Con l'analisi ciclica non l'abbiamo scommesse nel senso che è un fattore statistico e matematico quello della componente ciclica quindi sappiamo che quando siamo su un picco ci possiamo veramente aspettare un picco. Non dobbiamo scommettere o cercare di stimare se su un determinato livello vediamo colpito la scolbide se stiamo parlando di compratori assorbiti oppure di venditori che invece sono aggressivi o il contrario e viceversa. Quindi non si tratta di intuire con l'analisi ciclica ma di prevedere. È una previsione non ha certezza quindi c'è una componente di errore? Assolutamente sì che è inferiore al 10%. parlo come previsione parlo di previsione non di affidabilità cioè non di profittabilità lì dipende dal trader dal metodo che utilizza per entrare al mercato. Il volume sicuramente raggiunto un livello temporale quindi un massimo o un minimo ci dice se in quel momento lì c'è dell'interesse su quel livello lì. A noi basta quella informazione lì. C'è dell'interesse? Sì stiamo su un massimo ciclico sì cerchiamo long? No cerchiamo short questo deve essere chiaro. Ovvio che nel programma formativo dove parlo anche di volumi spiego comunque tutto ciò che serve per poter imparare il volume. E lo vediamo UUA ho cliccato il mio senso però l'ho sbagliato. Corso di analisi volumetrica vedi che ha non ci spiego tante cose volume verticali volume profile delta volume il footprint edit map più piattaforme per poter lavorare con i volumi e identificare i fini movimenti coerenze e incoerenze identificare l'uscita della fase di range volume verticali volume profile giornalieri pattern inversione che più ne ha più ne mette quindi un corso di volume completo. Il corso di analisi ciclica beh è qualcosa di pazzesco 40 ore di formazione un anno intero di indicatore incluso un anno intero di canale telegram dedicato all'indicatore che è lo stesso cui ha accesso con il noleggio dell'indicatore e due lezioni due ore interi di lezioni con me non guardo mai il minuto ovviamente. Imparerai tutto ciò che c'è da sapere sull'analisi ciclica originale di Earth più tutto quello che sono state le mie scoperte per quanto riguarda l'analisi ciclica non per ultimo ma ultimo nato l'evoluzione numero 4 del mio indicatore ossia in questo caso il volt sono passato dall'indicatore statico quello che mi hanno copiato tutti quello che fa la M è un indicatore che funziona sicuramente sì ma è statico non fa nessun tipo di calcolo di calcolo ha un indicatore evoluto nel senso che è un'evoluzione di quello precedente ed è ad oggi il must per quanto riguarda l'analisi ciclica e quantomeno per MT4 e MT5 è in continuo sviluppo ho ancora 4 sviluppi già pianificati che porteranno poi alla fine ad avere uno strumento che entrerà al mercato da solo tra due release ci saranno già i segnali quindi verranno generati i segnali bisognerà entrare a mano e poi ci sarà una dashboard che riepilogherà tutti completamente i cicli tutto quello che tu hai sulla piattaforma in un'unica video quindi saprai quanti cicli sono long quanti cicli sono short qual è la tendenza primaria al momento di entrare oppure no ok tutto quanto sottocchi sarà qualcosa di straordinario entro un anno sicuramente finirò tutto cioè entro la media alla fine dell'anno torniamo un attimo a noi dobbiamo cercare short abbiamo tracciato questa trendline che è una trendline andiamo a togliere il 20 giorni la vediamo di un ciclo a 40 giorni e il raggia blu per caso momento in cui il mercato andrà a chiudere sotto a questa trendline allora potremo andare a definire sostanzialmente un nostro ingresso al mercato ingresso che sarà importante perché andrà a confermare il ciclo superiore vi ho dato un'informazione in più che imparerete in maniera più approfondita ovviamente con il proseguo del corso anzi se c'è qualcuno che mi segue che ha acquistato il mio corso dell'analisi ciclo che vuole mettere un commento mi farebbe un piacere anche se magari vuole mettere un commento negativo sarà un piacere lo stesso perché fa parte ovviamente del tutto vedi che siamo in questa zona di totale lateralità io ho unito in questo caso massimi e minimi l'apertura e chiusura in realtà sono un pelino più in alto qua quindi potremmo andare anche a spostare qui per me rottura di questa trendline che ahimè essendo blu non si vede il rottura di 1763 potrà dare il via a una fase ribassista ho tolto volutamente il ciclo da 40 giorni da 20 giorni e ho lasciato il 40 giorni come minimo fino al 18 mese e il primo target sarà sicuramente la trendline del ciclo a 80 giorni andiamo un po' a vedere che sia giusta minimo minimo qua vedi che ad esempio questo ciclo di 80 giorni ha una durata di 45 perché è solo 45 perché è all'interno della varianza che io ho dato come possibilità all'indicatore di andare a cercare in termini di lunghezza e cicla sarà sicuramente il primo target e il secondo target che potremmo andare a visionare sarà poi quella della trendline del ciclo 20 settimane ma in realtà qui abbiamo dei livelli che sono indubbiamente importanti anche molto facili da vedere una sicuramente sarà quest'area qua che vedi che non dista molto dalla trendline ciclica quindi potrà essere secondo me un livello di supporto da poter utilizzare come target chiaramente qualora il mercato decida di scendere perché se il mercato partirà o no non è possibile prevederlo con nulla dove arriverà non è possibile prevederlo noi possiamo sapere se un livello è importante o no solo se è vicino a un massimo minimo perché se come invece ti raccontano come vi raccontate come ci hanno raccontato hanno raccontato anche a me negli anni in cui e non lavoravo con l'analisi ciclica per fortuna pochi i livelli di prezzo sono fenomenali funzionano sempre il mercato sarebbe nella linea orizzontale se ti fermi un attimo a pensare questa è la realtà i livelli al 99% non funzionano ma è normale che sia così perché il mercato li rompe poi c'è quel 1% di livelli che funziona ed è quello dove si costruiscono tutti quei mega le mega slide fanno quei mega video ah l'analisi ciclica l'analisi tecnica non funziona guarda qua bravo però nel frattempo ha rotto 100.000 livelli 200.000 trendline quando invece siamo sul massimo minimo quel livello lì diventa importante perché siamo arrivati a scadenza temporale quindi da lì ci possiamo aspettare un'inversione nel mercato vatti a vedere le altre mie analisi su Ethereum tutte le altre mie analisi e potrai toccare con mano se ancora non l'hai fatto tanto ti basta prendere gli screen dei grafici e poi andare a vedere guardarti per forza tutto il video vedrai che le previsioni che ho fatto mesi fa sono ancora giuste adesso mesi fa ma sono ancora giuste adesso con questo è tutto se hai bisogno di informazioni vai porre sul mio sito c'è la chatina mi puoi contattare da lì se sono online ti rispondo subito se non sono online tipo sono a scuola di ballo ti rispondo appena la vedo e ti risponderò via mail quindi metti la mail che sia vera e poi guardare le mail mi viene sono difficile anche attivarti l'indicatore tante volte mi è capitato che mi mettono una mail finta e io mando poi la mail dicendo è attivata la licenza non la vede e mi scrivono ma l'indicatore l'indicatore ti è andato da me 10 giorni fa quindi la mail deve essere vera mi raccomando con questo quindi è tutto è durata fin troppo questa analisi ti do appuntamento alla prossima analisi ossia domani ciao